Ben trovati a un aggiornamento con la tendenza media e lunga scadenza. Diamo uno sguardo ai giorni successivi metà mese perché probabilmente l'inverno busserà alle porte di gran parte dell'Europa centro-orientale, tutto dovuto complice all'anticiclone che terrà i suoi massimi tra l'oceano atlantico, il Portogallo, la Spagna e l'ovest della Francia e favorirà impulsi di aria fredda dal mare di Norvegia, dalla Scandinavia in direzione Europa orientale e stati centrali del vecchio continente. Con parziale influenza anche all'Italia, di fatti potrebbe dai Balcani giungere aria più fredda in direzione centro-sud nord-est con un calo delle temperature e quindi primi risvolti invernali anche per le regioni meridionali che ultimamente hanno apprezzato temperature molto miti. Insomma dopo metà mese i primi impulsi di aria fredda invernale dal nord Europa potrebbero giungere sull'Europa orientale marginalmente anche alcune zone del nostro paese. Seguite gli aggiornamenti precisi però scaricando l'app di Trebimeteo.